Sono 370 i nuovi positivi in Regione Abruzzo. Nelle ultime ore i casi si riferiscono a persone di età compresa tra 6 mesi e 97 anni, che fanno riferimento a 4860 tamponi molecolari e 1458 test antigenici. La percentuale, considerando solamente i test molecolari del 7,61%, percentuale che, se si considerano anche i tamponi rapidi, scende fino al 5,85%. E la provincia di Chieti, quella che registra un aumento più consistente, visto che dei 370 casi complessivi, 163 fanno riferimento al territorio teatino. A seguire, per numero di contagi recenti, c'è la provincia dell'Aquila, con 73 casi, quasi appaiate le province di Pescara e Teramo, rispettivamente con 65-64 nuovi contagiati. Il numero di guariti tuttavia supera quello dei contagi, perché si attesta una quota 424, mentre sale ancora il triste bilancio delle persone decedute, che registra un aumento di 35 unità, di cui 24 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Per quanto riguarda il numero degli ospedalizzati, si vede una leggera flessione. 668 sono i pazienti ricoverati in area medica, con un decremento di 4 unità, 83 coloro che invece sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in questo caso la discesa di 5 unità. Sono invece 81 le persone che restano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, con un meno 81 rispetto a 24 ore fa. Lì in Abruzzo gli attualmente positivi sono 10.873, in discesa di 90 unità rispetto a ieri. Intanto slitta a martedì 23 marzo il richiamo delle vaccinazioni anti-covid a Bisenti, previsto per oggi, a comunicarlo è la ASL di Teramo, che spiega come il rinvio sia stato determinato da un problema tecnico nell'emissione dei dati, legato alla data che non ha permesso la registrazione dei pazienti nel sistema operativo. Si è deciso dunque di rinviare la vaccinazione, si legge nella nota, che coinvolge i comuni di Bisenti, Arsite e Castiglione Messerraimondo a martedì 23 marzo, in accordo con i sindaci e i medici di Medicina Generale. Tale rinvio, essendo la finestra per la somministrazione della seconda dose sufficientemente ampia da 7 giorni prima a 14 giorni dopo la data stabilita, non infici in alcun modo la validità della vaccinazione.